bentornati nel mio canale con un nuovo tutorial per quanto riguarda il tutorial di oggi lavoreremo insieme una casacca è una lavorazione molto semplice partiamo dal centro e andiamo avanti con gli aumenti fino alle nostre circonferenze è un quadrato perché lavoriamo una piastrella dobbiamo lavorare una piastrella del davanti una piastrella del dietro quindi è un quadrato e ogni lato è uguale nel mio caso sono 45 per 45 il punto è molto semplice con questi fiorellini da una sensazione di leggerezza e di freschezza e gli aumenti non li faremo qui agli angoli ma ogni lato del nostro quadrato quindi gli angoli sono sempre la costante lavorate due maglie alte 3 catenelle 2 maglie alte gli aumenti li faremo al dove abbiamo le catenelle di separazione da un lato dall'altro e tutte e quattro gli angoli i lati una volta che sono arrivata alle mie circonferenze ho lavorato per circa 8 centimetri una lavorazione granny dove qui poi dove ho messo il segno divideremo lo scollo e le spalle è una lavorazione molto semplice per quanto riguarda le circonferenze per adattare la taglia basta che andiamo avanti con la lavorazione fino a allargare il nostro quadrato una volta che arriviamo poi alle nostre circonferenze lavoriamo solo su un lato e non facciamo più aumenti però prima di iniziare il tutorial parliamo del materiale che è usato prima di iniziare vediamo cosa occorre io sto usando il filato della lana gatto zante sono dei filati made in italy è un colore verde acqua però nel filato ci sono dei filamenti di lurex verde più scuro molto bello ed elegante sono dei gomitoli da 50 grammi e il filo è lungo 265 metri quindi ha una buona resa si presenta come una piccola fettuccia per quanto riguarda la composizione abbiamo 78 per cento di cotone e 22 per cento di poliestere si lavora con l'uncinetto che va dal 3 mezzo ma anche col 4 va bene solo che io lo sto lavorando con l'uncinetto del 3 per far venire la lavorazione più compatta adesso possiamo iniziare iniziamo la lavorazione facendo un cappietto magico dobbiamo iniziare visto che è una piastrella dal centro quindi entro con l'uncinetto e mi alzo con 3 catenelle che la mia prima maglia alta 1 2 e 3 all'interno vado a lavorare una seconda maglia alta 3 catenelle di separazione 1 2 e 3 e vado a lavorare sempre all'interno altre due maglie alte quindi lavoreremo gruppetti di due maglie alte per un totale di quattro gruppetti quindi questo è il secondo 3 catenelle 1 2 e 3 rientro e sempre rientro all'interno e lavoro l'ultimo gruppetto di due maglie alte e così abbiamo formato il nostro centro per chiudere faccio una catenella tiro il filo e vado a chiudere con una mezza maglia alta sulla prima catenella d'inizio dove abbiamo fatto le 3 catenelle questo perché per iniziare direttamente dal centro quindi una catenella vado sulla terza catenella del gruppo iniziale di due maglie alte prendo il filo e chiudo tutto insieme questo è l'avvio del nostro quadrato lavoriamo il secondo giro quindi mi ritrovo giusto al centro facendo la chiusura in questo modo non si vedrà mai la chiusura mentre andiamo avanti con la lavorazione mi alzo con due catenelle qui abbiamo l'angolo e lavoro una seconda maglia alta la l'altra parte dell'angolo lo vado a lavorare alla chiusura una catenella di separazione all'interno delle tre catenelle dove abbiamo l'angolo lavoro due maglie alte 3 catenelle 1 2 e 3 rientro nello stesso punto due maglie alte 1 e 2 ripeto una catenella di separazione per arrivare dove abbiamo quest'altro angolo per lavorare all'interno le due maglie alte 1 e 2 3 catenelle 1 2 e 3 catenelle 1 2 e 2 catenelle di separazione qui all'interno lavoro 2 maglie alte 1 e 2 3 catenelle 1 2 e 3 rientro 2 magliette 1 e 2 una catenella e sono arrivata dove abbiamo iniziato all'interno lavoro 2 magliette 1 e 2 catenella e vado a chiudere con una mezza maglia alta sulla seconda catenella del giro sottostante quindi entro dentro prendo il filo e chiudo tutto insieme e questo è il nostro centro quindi inizieremo sempre da questo punto e questo è il risultato del nostro quadrato mi alzo sempre con 2 catenelle lavoriamo il terzo giro rientro di nuovo maglia alta questa volta lavoro 2 catenelle di separazione 1 e 2 qui all'interno della catenella lavoro una maglia alta 2 catenelle 1 e 2 qui abbiamo l'angolo e ripeto le due maglie alte 1 e 2 3 catenelle 1 2 e 3 e 2 maglie alte 1 e 2 quindi gli angoli rimangono sempre uguali qui è la costante poi gli aumenti le andremo a fare dove abbiamo fatto le catenelle di separazione le due catenelle una catenella di separazione entro nello spazio che abbiamo due scusate catenelle di separazione entro nello spazio di una catenella e lavoro una maglia 2 catenelle ripetiamo le due maglie alte 1 e 2 3 catenelle 1 2 e 3 rientro 2 maglie alte 1 e 2 2 catenelle 1 e 2 qui all'interno di una catenella di separazione del giro sottostante una maglia alta 2 catenelle e qui ripeto l'angolo e andiamo avanti in questo modo fino a terminare il giro l'angolo dobbiamo sempre ripetere le due maglie alte 3 catenelle e 2 maglie alte proseguite questo e ci vediamo al termine del giro una volta arrivata al termine del giro faccio sempre la stessa chiusura catenella mezza maglia alta sulla seconda catenella prendo il filo e chiudo tutte insieme questo è il risultato che sta prendendo forma adesso mi alzo sempre con due catenelle 1 e 2 lavoro una maglia alta all'interno delle catenelle di separazione 2 catenelle di separazione e iniziamo ad aumentare per allargare il nostro quadrato all'interno delle due catenelle lavoriamo 2 maglie alte una catenella sulla una maglia alta sulla maglia sottostante e 2 maglie alte nelle catenelle di separazione 1 e 2 2 catenelle di separazione 1 e 2 lavoriamo sempre l'angolo allo stesso modo con 2 maglie alte 1 e 2 3 catenelle 1 2 e 3 rientro 2 maglie alte 1 e 2 2 catenelle di separazione 1 e 2 qui dove abbiamo le due catenelle lavoriamo 2 maglie alte all'interno 1 e 2 una maglia alta sulla maglia alta e 2 maglia alta e 2 maglie alte dove abbiamo le catenelle di separazione 1 e 2 2 catenelle 1 e 2 qui abbiamo l'angolo e ripetiamo le due maglie alte separate da 3 catenelle 1 2 3 2 maglie alte 1 e 2 continuiamo in questo modo fino a terminare il giro facciamo sempre le due catenelle di separazione 2 maglie alta all'interno delle catenelle 1 maglia alta sulla maglia alta e 2 maglie alte all'interno delle 2 catenelle proseguiamo questo fino a terminare il giro e chiudiamo sempre con una catenella è una mezza maglia alta vi faccio rivedere di nuovo la chiusura quindi chiudiamo con una catenella e mezza maglia alta sulla seconda catenella del giro sottostante lavoriamo un altro giro dove dobbiamo aumentare di nuovo e le maglie da 5 le porteremo al 9 quindi lavoreremo sempre due maglie alte sulle 2 catenelle 5 maglie alte su ogni maglia alta sottostante e 2 maglie alte nelle catenelle facendo sempre le due catenelle di separazione perché qui che faremo sempre l'aumento lavoriamo quindi mi ritrovo sempre al centro come vedete il lavoro viene bello pulito mi alzo con 2 catenelle rientro nello stesso punto al lavoro un'altra maglia alta 2 catenelle 2 maglie alte all'interno delle due catenelle di separazione maglia alta su maglia alta di un totale di 5 maglie alte 2 3 4 e 5 e 2 maglie alte all'interno delle catenelle di separazione e così abbiamo fatto due aumenti da questa parte due aumenti da questo lato 2 catenelle di separazione sempre l'angolo lo lavoriamo uguale qui non è cambiato niente 2 maglie alte 3 catenelle e 2 maglie alte 1 e 2 2 catenelle dove ho le catenelle di separazione lavoro 2 maglie alte 1 e 2 maglie alta su maglia alta per un totale di 5 maglie alte 4 e 5 e altre 2 maglie alte all'interno delle 2 catenelle di separazione 2 catenelle e ripetiamo questo fino a terminare il giro la chiusura la facciamo sempre allo stesso modo una volta che abbiamo terminato anche questo giro adesso andiamo a costruire i nostri fiorelli iniziamo sempre con 2 catenelle 1 e 2 rientriamo nello stesso punto e lavoriamo un'altra maglia alta 2 catenelle 1 e 2 qui lavoriamo sempre due maglie alte 1 e 2 vado a fianco lavoro una terza maglia alta a fianco quarta e a fianco lavoro una quinta maglia alta a questo punto vado a lavorare 4 catenelle 1 2 3 e 4 che mi servono per formare il fiore salto 1 2 3 vado sulla quarta maglia alta e lavoro la prima maglia alta vado a fianco una seconda maglia alta a fianco 3 e all'interno delle catenelle vado a lavorare altre 2 maglie maglie alte di un totale di 5 maglie alte quindi come abbiamo iniziato con 5 maglie alte dobbiamo terminare con le 5 maglie alte 2 catenelle di separazione 1 e 2 vado a lavorare l'angolo così come si presenta con 2 maglie alte 1 e 2 3 catenelle 1 2 e 3 e di nuovo 2 maglie alte 1 e 2 andiamo a ripetere la stessa lavorazione che abbiamo fatto qui anche sull'altro lato quindi andiamo a fare sempre le 2 catenelle che ci servono per fare l'aumento nel giro successivo all'interno delle 2 catenelle vado a lavorare 2 maglie alte 1 e 2 vado sulla maglia alta a fianco lavoro una terza maglia alta a fianco 4 e a 5 quindi 5 maglie alte 4 catenelle di separazione 1 2 3 e 4 vado a saltare 1 2 3 e nella quarta maglia alta lavoro la prima maglia alta a fianco 2 a fianco 3 e all'interno delle catenelle 2 maglie alte quindi anche qui abbiamo un totale di 5 maglie alte 2 catenelle e vado a lavorare l'angolo così come si presenta di 2 maglie alte 3 catenelle e 2 maglie alte 1 e 2 2 catenelle andiamo a lavorare qui due maglie alte sulla maglia alta una maglia alta sulla seconda una maglia alta e sulla terza una maglia per un totale di 3 che abbiamo qui più due all'interno delle catenelle sono 5 4 catenelle di separazione saltiamo 3 maglie alte di base nella quarta lavoriamo la prima maglia alta per un totale anche qua di 5 e proseguiamo questo fino a terminare il giro una volta che abbiamo terminato questo giro andiamo a lavorare un altro giro dove formeremo continueremo a formare il nostro fiorellino la partenza è sempre uguale con due catenelle rientro nello stesso punto una maglia alta 2 catenelle di separazione all'interno delle catenelle andiamo a fare l'aumento di 2 maglie alte 1 e 2 dobbiamo lavorare sempre un totale di 5 maglie alte quindi due le abbiamo fatte e andiamo a fianco lavoriamo una terza maglia alta quarta maglia alta e quinta maglia alta quindi saltiamo queste due maglie alte non le lavoriamo 4 catenelle 1 2 3 e 4 maglia bassa all'interno delle quattro catenelle del giro sottostante 4 catenelle 1 2 3 e 4 saltiamo le prime due maglie alte andiamo sulla terza lavoriamo la prima maglia alta a fianco una seconda maglia alta e a fianco 3 all'interno delle catenelle 2 maglie alte quindi abbiamo un totale anche qui di 5 maglie alte 2 catenelle di separazione 1 e 2 lavoriamo l'angolo così come si presenta quindi qui non cambia niente 2 maglie alte 3 catenelle e 2 maglie alte 2 catenelle di separazione ripetiamo qui il lavoro che abbiamo fatto da questo lato quindi due maglie alte all'interno delle catenelle 1 e 2 maglia alta su maglia alta 3 4 e 5 quindi dobbiamo avere dobbiamo lavorare tre maglie alte sulle maglie alte sottostante 2 nelle catenelle quindi abbiamo un totale di 5 maglie alte 4 catenelle 1 2 3 e 4 maglia bassa all'interno delle catenelle sottostante 4 catenelle saltiamo 1 e 2 andiamo sulla terza maglia alte lavoriamo la prima maglia alta a fianco una seconda maglia alta è una terza maglia alta all'interno delle catenelle 2 maglie alte 1 e 2 e 2 catenelle di separazione anche qui abbiamo lavorato lo stesso motivo e dobbiamo continuare in questo modo fino a terminare il giro l'angolo sempre uguale 3 catenelle e 2 maglie alte 1 e 2 2 catenelle di separazione all'interno delle catenelle lavoriamo 2 maglie alte una maglia alta sulla prima maglia alta una quarta maglia alta sulla seconda maglia alta e una quinta maglia alta sulla terza maglia alta 4 catenelle una maglia bassa 4 catenelle saltiamo le prime due e andiamo a lavorare di nuovo 5 maglie alte 3 sulle 3 sottostanti e 2 nelle catenelle e andiamo avanti fino a terminare la nostra lavorazione proseguite questo fate sempre la chiusura con una maglia bassa è una mezza maglia alta per trovarli sempre ad iniziare al centro a questo punto dobbiamo continuare a formare il fiorellino quindi qui abbiamo sempre chiuso con una catenella una mezza maglia alta mi alzo sempre con due catenelle all'interno un'altra maglia alta 2 catenelle di separazione 1 e 2 e dobbiamo lavorare 2 maglie alte all'interno delle 2 catenelle del giro sottostante 1 e 2 maglia alta su maglia alta ma da fianco maglia alta vado a fianco maglia alta e a fianco maglia alta dobbiamo chiudere il nostro fiorellino quindi qui dove abbiamo fatto le catenelle di separazione lavoriamo 2 maglie alte all'interno delle catenelle 1 e 2 3 catenelle di separazione 1 2 e 3 di nuovo vado dove ho le catenelle l'archetto delle 3 delle 4 catenelle lavoro 2 magliate 1 e 2 maglia alta su ogni maglia alta sottostante e alla fine dobbiamo avere un totale di 9 maglie alte vado a fianco maglia alta a fianco maglia alta e all'interno delle catenelle altre 2 maglie alte 1 e 2 2 catenelle di separazione qui ho l'angolo e lavoro sempre le due maglie alte 1 e 2 3 catenelle di andiamo a ripetere il lavoro che abbiamo fatto qui andiamo a ripetere anche da questa parte ecco come si presenta la nostra piastrella in questo giro dobbiamo lavorare le maglie alte dove abbiamo le due catenelle di separazione maglie alte su maglie alte e anche dove abbiamo le 3 catenelle di separazione all'interno di queste 3 catenelle lavoreremo 3 maglie alte per chiudere tutto il nostro quadrato nel giro successivo dobbiamo formare invece due fiorellini man mano che andiamo avanti andiamo ad aumentare i nostri fiorellini qui andiamo a chiudere quindi lavoriamo semplicemente maglie alte su maglie alte e nelle catenelle di separazione inizio sempre con due catenelle è una maglia alta sempre le due catenelle di separazione queste devono stare sempre perché lì faremo sempre gli aumenti infatti qui lavoreremo due maglie alte 1 e 2 maglia alta su maglia alta a fianco maglia alta a fianco maglia alta e continuo fino a terminare a lavorare tutte le maglie alte che ho a disposizione su questo lato questa è l'ultima maglia alta qui ho le 3 catenelle di separazione e lavoro 3 maglie alte all'interno delle 3 catenelle questa è la seconda e questa è una terza maglia alta di nuovo maglia alta su maglia alta e poi lavoriamo l'angolo come abbiamo fatto sempre quindi lavoriamo tutte e quattro i lati in questo modo maglia alta su maglia alta 3 maglie alte dove abbiamo le 3 catenelle di separazione qui e dove abbiamo le 2 maglie le 2 catenelle prima dell'angolo all'interno 2 maglie alte quindi arrivo dove ho le 2 catenelle lavoro 2 maglie alte 1 e 2 e 2 catenelle di separazione lavoriamo l'angolo come abbiamo fatto fino adesso una volta che abbiamo finito di lavorare tutte e quattro i nostri lati come vedete abbiamo chiuso questa prima parte dei fiorellini adesso dobbiamo costruire altri due fiorellini il procedimento è sempre quello quindi dobbiamo lavorare due fiorellini che verranno in questo punto mi vado ad alzare sempre con due catenelle e maglia alta nella maglia alta abbiamo lavorato metà del nostro angolo 2 catenelle di separazione 1 e 2 per formare il primo fiorellino ci servono cinque maglie alte quindi due le lavoriamo all'interno delle 3 delle 2 catenelle di separazione 1 e 2 la terza la lavoro sulla maglia alta a fianco quarta sulla maglia alta a fianco e quinta sulla maglia alta a fianco dobbiamo fare le quattro catenelle di separazione 1 2 3 e 4 salto 1 2 3 nella quarta maglia alta lavoro la prima maglia alta a questo punto dobbiamo lavorare un totale di 13 maglie alte e poi dobbiamo formare l'altro fiorellino quindi questa è la prima vado a fianco lavoro una seconda maglia alta a fianco una terza maglia alta quarta quinta sesta settima ottava nona maglia alta decima undicesima dodicesima e adesso lavoriamo la tredicesima quindi tra un fiorellino e l'altro dobbiamo lavorare 13 maglie centrali una volta che abbiamo lavorato le 13 maglie alte rifacciamo le quattro catenelle 1 2 3 e 4 salto 1 2 3 vado nella quarta maglia lavoro la prima maglia alta una seconda maglia alta 3 maglia alta e all'interno delle catenelle vado a lavorare altre due maglie alte per un totale di cinque maglie alte 2 catenelle e vado a lavorare l'angolo quindi il primo lato l'abbiamo formato adesso dobbiamo formare anche l'altro lato dove dobbiamo lavorare altri due fiorellini lavoro 2 maglie alte 1 e 2 3 catenelle di separazione rientro 2 maglie alte 1 e 2 2 catenelle di separazione e andiamo a formare il primo fiorellino lavorando 2 maglie alte all'interno delle due catenelle 4 catenelle e 3 maglie alte su ogni maglie alta sottostante per un totale di 5 4 catenelle 1 2 3 e 4 salto 1 2 3 nella quarta maglia alta lavoro la prima maglia alta di 13 quindi vado avanti e lavoro un totale di 13 maglie alte 9 10 11 11 12 lavoro la tredicesima maglia alta 4 catenelle 1 2 3 e 4 salto 1 2 3 vado nella quarta maglia alta e lavoro la prima maglia alta a fianco 2 a fianco 3 e all'interno delle catenelle 2 maglie alte 1 e 2 2 2 catenelle di separazione poi vado a lavorare di nuovo l'angolo e vado a ripetere la lavorazione nel giro successivo dobbiamo sempre lavorare 5 maglie alte 4 catenelle una maglia bassa all'interno delle 4 catenelle di separazione e di nuovo dobbiamo lavorare poi le maglie alte su maglie alte saltando le ultime due andate avanti però poi ve lo faccio vedere andiamo avanti formando questi due fiorellini quindi noi dobbiamo lavorare le maglie alte su ogni maglia alta sottostante tralasciando le ultime due quindi sempre lavorando nelle catenelle di separazione per un totale di 5 maglie alte mi alzo con 2 catenelle vado a lavorare il mio metà angolo 2 catenelle di separazione e qui all'interno lavoro 2 maglie alte 1 e 2 e maglia alta su maglia alta per un totale di 5 maglie alte e 5 saltiamo queste due lavoro 4 catenelle di separazione e nell'archetto delle 4 catenelle del giro sottostante lavoriamo una maglia bassa 4 catenelle salto 1 e 2 vado a lavorare maglia alta su maglia alta e mi fermo sulla terz'ultima maglia alta quindi il procedimento del fiorellino non è cambiato dobbiamo ripetere i giri per formare il nostro fiorellino dobbiamo saltare le due maglie alte 4 catenelle maglia bassa 1 2 3 e 4 salto 1 e 2 e vado a lavorare le mie 5 maglie alte nel giro successivo invece lavoreremo maglia alta su maglia alta 2 maglie alte all'interno delle 4 catenelle 3 catenelle di separazione ripetiamo questo 2 maglie alte 2 maglie alte e maglia alta su maglia alta 2 maglie alte 3 catenelle 2 maglie alte e maglia alta su maglia alta poi dobbiamo lavorare il giro dove dobbiamo lavorare maglia alta su maglia alta quindi ripetiamo il giro dove andiamo a chiudere il fiorellino nel giro poi che dobbiamo ripetere la lavorazione dei fiorellini è sempre quello quindi 5 maglie alte dobbiamo saltare 4 maglie alte sottostanti facendo l'archetto di 4 maglie alte e poi sempre le maglie centrali sono 13 quindi contiamo 13 maglie alte formiamo l'altro fiorellino 13 maglie alte formiamo l'altro fiorellino man mano che andiamo avanti chiudiamo il fiorellino nel giro poi che dobbiamo formare l'altro fiorellino sempre ripartiamo con 5 maglie alte 4 catenelle saltiamo 3 maglie di base e contiamo 13 maglie alte fino a formare 4 fiorellini quindi il procedimento non è cambiato è molto semplice andando avanti con la lavorazione questo è il risultato abbiamo iniziato con un fiorellino andando avanti con la lavorazione abbiamo aggiunto due fiorellini facendo sempre gli aumenti dove abbiamo le catenelle l'angolo rimane sempre uguale qui non abbiamo fatto gli aumenti poi abbiamo inserito un altro fiorellino da uno abbiamo due la parte centrale sempre di 13 maglie alte quindi formiamo il primo fiorellino facciamo 13 maglie alte e l'altro fiorellino lavoriamo fino a chiudere questo fiorellino e poi inseriamo un altro fiorellino da due abbiamo tre fiorellini tra un fiorellino e l'altro abbiamo sempre 13 maglie alte da una parte e dall'altra poi ho fatto quattro mi sono formato mi sono fermata quando ho raggiunto ho lavorato cinque fiorellini quindi siccome ogni lato è uguale abbiamo la stessa larghezza e la stessa lunghezza misurate e vedete voi fino a quanti centimetri dovete lavorare una parte del davanti perché poi dobbiamo lavorare anche il dietro quindi il davanti con il dietro poi faremo la circonferenza totale una volta che ho chiuso ho lavorato il tutto quindi ho fatto l'ultimo giro con gli aumenti e ho chiuso l'ultimo giro di fiorellini adesso non vado più ad aumentare vado a lavorare due giri di maglie alte e una volta che ho chiuso faccio in questo modo mi alzo con due catenelle 1 e 2 questo risulta la maglia alta centrale vado a fianco lavoro una maglia alta a fianco lavoro nelle catenelle 2 maglie alte 1 e 2 maglia alta su ogni maglia alta sottostante quindi non è difficile siccome abbiamo le maglie alte già sotto lavoriamo una maglia alta su ogni maglia alta vado a fianco maglia alta a fianco maglia alta proseguite questo vi faccio vedere come ritornare indietro arrivata al termine del giro lavoro 2 maglie alte all'interno delle 2 catenelle maglia alta sulla prima maglia alta delle maglie alte dell'angolo maglia alta sulla seconda maglia alta è una maglia alta all'interno del nostro angolo vado a girare il lavoro e lavoro un altro giro di maglie alte quindi mi alzo con due catenelle e lavoro maglia alta su ogni maglia alta sottostante riprendo tutte le maglie alte che ho sotto una volta che ho terminato di lavorare le due righe di maglie alte adesso andiamo a cambiare il punto per preparare il la lavorazione del punto treni e vado a lavorare 3 catenelle 1 2 e 3 2 che la mia prima maglia alta più una di separazione salto una maglia di base vado a fianco e lavoro una maglia alta catenella salto una maglia alta vado a fianco e lavoro una maglia alta catenella salto 1 vado a fianco maglia alta catenella salto 1 vado a fianco maglia alta catenella e proseguo questo per tutto per tutta la riga lavoro solo un giro andate avanti ci vediamo al termine del giro terminato questo giro adesso giriamo il lavoro e lavoriamo il punto treni quindi iniziamo questo giro con 3 catenelle più una di separazione che una maglia alta e una catenella di separazione iniziamo questo giro solo con una maglia alta il giro successivo invece con 3 maglie alte per far venire il bordo più dritto salto questo quadretto vado nel quadretto a fianco e lavoro 3 maglia alta 1 2 e 3 1 catenella di separazione salto questo quadretto vado a fianco e lavoro 3 maglia alta 1 2 e 3 catenella salto 1 vado a fianco 3 maglia alta 1 2 e 3 catenella e vado avanti in questo modo saltato un quadretto vado a fianco 3 maglia alta fino a terminare il giro e vi faccio vedere poi come iniziare un altro giro e vado avanti per 8 cm voi vedete se volete fare la fascia di sopra più alta potete farla tranquillamente più alta la fate di più scende la maglia una volta che finiamo questi 8 cm dobbiamo poi dividere lo scollo e lo scalfo per cucire andate avanti vi faccio rivedere come ripartire ho terminato anche questo giro quindi ho terminato con una maglia alta giro il lavoro e vado a lavorare 3 catenelle che la mia prima maglia alta 1 2 e 3 e all'interno della catenella vado a lavorare altre 2 maglie alte quindi abbiamo iniziato questa volta con 3 maglie alte il giro successivo invece iniziamo con una una catenella vado nello spazio e lavoro 3 maglie alte nello spazio di una catenella lavoro 3 maglie alte 1 2 e 3 catenella vado nello spazio di una catenella lavoro 3 maglie alte vado avanti in questo modo fino a lavorare 8 cm una volta che abbiamo finito i due pannelli dobbiamo mettere il rovescio all'esterno e il diritto all'interno per quanto riguarda le misure ho un di larghezza 45 cm del davanti e del dietro e 52 cm la lunghezza quindi facendo poi questo questa lavorazione la maglia è più lunga una volta che abbiamo fatto questo dobbiamo trovare la metà e spostarci di nel mio caso ho fatto 10 cm da un lato e 15 cm dall'altro perché voglio la maglia che scende un po sulla spalla quindi questa è la spallina che scende sulla manica per quanto riguarda lo scalfo ho fatto 17 cm 17 cm per la mia taglia che una taglia m è giusta se invece voi siete una taglia s calcolate 16 cm 18 cm 17 18 una taglia m è 19 20 una taglia l quindi andando avanti con se dovete scendere con lo scafo rendetevi conto che taglia avete una volta che abbiamo diviso questo possiamo cucire nel mio caso vado a cucire con ago e filo quindi vado a fare delle piccole cuciture sia sul sulla spalla che sul fianco quindi vado a prendere la parte del davanti e del dietro e vado a cucire una volta che ho finito di cucire i laterali e le spalle questo è il risultato per quanto riguarda il filato è un filato molto morbido e molto fresco non ho voluto fare la manica però se volete basta riprendere le maglie intorno allo scalfo e riprendere anche la lavorazione cremmi la scollatura da una parte copre tutta la spalla e da una parte scende sulla spalla però se volete potete calcolare una volta trovato la metà 10 cm da una parte 10 cm dall'altra per una scollatura di 20 cm oppure anche 22 cm per farla più scollata questo è il risultato molto carino e molto particolare dalla con la formazione di questi fiorellini ho un gruppo facebook che si chiama le creazioni di carola e le amiche di uncinetto e iscrivetevi al canale ci vediamo appresso con altri video tutorial grazie per la visione e ciao 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 Grazie.